Ciao a tutti per Becciolini Network, oggi è giovedì e ci imbarchiamo sulla Moscova per fare una piccola crociera sul fiume. Ecco qua, uno dei sette grattacieli staliniani e ci stiamo dirigendo al nostro imbarcadero. Ecco. Ciao a tutti, sto scendendo per imbarcarmi e tra poco vedrete alcune immagini dal battello. Buona giornata. Ogni volta che si sale o si entra da qualche parte si fa praticamente un controllo come se si fosse in aeroporto. Devono essere certi che tutto vada bene. Ricordiamo che Mosca quest'inverno ha avuto un attacco terroristico per cui mi sembra giusto e doveroso che facciano tutti questi controlli ai turisti. E anche non solo ai turisti. Il posto dove ci stiamo imbarcando è questo. Là in fondo ci sono i grattacieli e questa è la barca dove faremo la nostra mini crociera sulla Moscova. Che bello. La giornata non è bellissima, comunque non fa freddo. Stamattina abbiamo fatto visita anche al mausoleo di Lenin. Pioveva. Però adesso si è aperto. Abbiamo appena passato il ponte della metropolitana. I Moscoviti lo chiamano il ponte che parla perché sul suo arco vengono proiettate le notizie. E grazie alla nostra guida oggi abbiamo saputo che qui è la giornata dedicata ai pet. La Moscova è un fiume molto importante. Ci sono tre porti fluviali. Uno solo commerciale e gli altri due promiscui sia per il trasporto delle persone che per il commercio. Ed è lungo 500 km. Ecco qua. Adesso mi giro. Sullo sfondo vedete l'alto uno dei sette grattacieli costruiti da Stalin. La giornata è diventata bella. Fortunatamente. Ed ecco qua. Qui stiamo passando davanti all'ex piazza dell'Europa. Lai in fondo quelle aste che vedete verticali erano tutte piene delle bandiere dei paesi europei. Adesso come si può notare non c'è neanche una bandiera. Questo ci può un po' pensare. Questo invece è un ponte pedonale. Molto bello. Dedicato all'eroe nazionale. Stando ora davanti alla collina dei passari. Là sullo sfondo vedete il trampolino della disciplina salto con gli sci. Ecco qua. Questo è lo stadio. Siamo nella zona degli impianti sportivi. Sullo sfondo vedete anche una pulivia, una vovia, che fa attraversare i due lati delle rive del fiume. Ecco lì? Ecco lì? Eccoci, stiamo passando sotto la funivia, là dietro sempre la costruzione per il trampolino. Sullo sfondo i grattacieli della città, qui in questa mini crociera comunque la gente si rilassa, beve e mangia tranquillamente. E' molto bello da vedere, è anche molto bello stare qua. Queste invece sono le spiagge della Moscova. La guida ci racconta che 50 anni fa si faceva anche il bagno nel fiume, adesso è rimasta solo la spiaggia. Guardate invece che curiosi questi due palazzi, sormontati da dei capitelli che si erano dei cervelli. Infatti lì c'è il ministero e il palazzo della scienza, dove ci sono gli scienziati che fanno così. E quindi questi capitelli simboleggiano i cervelli e gli studi che si effettuano in questi palazzi. Grazie. 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 Le gru di Mosca, la forza lavoro. E questo è lavoro di bestia comunque. Ho visto che lavorano un sacco e fanno anche tante cose veloci. Già non perdono tempo. Adesso ho visto che stanno preparando un concerto, la velocità è impressionante, nel togliere e mettere stanno montando un palco enorme e nel giro di pochi giorni questo palco sta innalzandosi tantissimo. La festa sarà dal 23 agosto al primo di settembre. Ora ci stiamo avvicinando al centro della città, infatti sul fondo un paio di comandorate della chiesa del Redentore. Il Redentore dedicato a Pietro Grande monumento a Pietro Grande la chiesa del Salvatore e in fondo le torri del Kremlin il Kremlin visto dalla bustola con il Kremlin sullo sfondo vi saluto, l'abbraccio a tutti ciao da Di Aria